Supersite consente di integrare social network al tuo sito web, quindi di inserire elementi relativi ai social all'interno delle pagine. Per farlo, è necessario essere già iscritti al social che intendi collegare. Per iniziare, accedi a Supersite. Clicca l'icona indicata presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita, per scegliere la posizione che intendi assegnare all'elemento. Dall'elenco degli elementi a sinistra, clicca la voce Social e scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. Clicca sopra l'elemento per modificare le impostazioni. Dalla finestra che appare, inserisci il link dei social network. Ciascun elemento social ha proprietà e opzioni diverse che possono essere definite dalla pagina che si apre cliccandoci sopra. Clicca su Salva per rendere effettive le modifiche. Il widget è stato configurato correttamente. Nel caso tu voglia rimuoverlo, clicca sull'icona indicata.